buongiorno a tutti oggi siamo a breganzona per mostrarvi questo tre mezzo locali ci troviamo al secondo piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo subito accolti da questo corridoio molto ampio e subito a sinistra possiamo vedere la prima stanza successivamente a sinistra troviamo il primo bagno composto di bc specchiera lavabo e vasca da bagno subito a destra la seconda stanza questa stanza attraverso questa porta finestra a questo accesso a un bagno composto proseguiamo la nostra visita e lungo il corridoio d'ingresso sulla destra troviamo un bagno di servizio composto di specchiera lavabo e vc frontalmente la cucina composta di frigo congelatore lavastoviglie lavabo piano cottura in vetro ceramica e forno anche la cucina all'accesso a un balcone nella parte finale di questo corridoio come potete notare abbiamo un armadio muro già installato e attraverso questa porta accediamo al soggiorno come potete notare grazie a queste finestre molto ampie l'ambiente rimane molto luminoso attraverso questa porta finestra possiamo accedere a un terrazzo che regala una vista incredibile sul lago se volete avere maggiori informazioni legate a questo appartamento chiamateci al numero 00 41 91 921 24 28 ti affitto